Alessandro partiamo da te, dal tuo profilo di professionista e andiamo a parlare dello studio per i campi di competenza. Ti ringrazio, siamo architetti, questo studio fondato nel 98, in verità poi viene da una lunga tradizione alla Greotta Associati dove il mio parte, Piero Giceri, era appunto partner e io associato. Noi abbiamo un po' questa caratteristica di trasversalità, di muoverci in vari campi, tutti dentro al progetto ma che vanno dalla grafica all'interio, al product design, all'architettura e quindi ci piace molto essere trasversali. Oggi porti per Archie Energy un progetto incredibile perché ha a che fare con un testo storico, archeologico. Sì, sì, devo dire che la storia secondo me è un tema molto importante ma quando trovi la storia che è un pezzo delle nostre città e quindi è un ritrovamento archeologico, secondo me è ancora più importante anche perché normalmente nella vita di tutti i giorni le nostre città diventa un impedimento e invece può essere una valenza, una valenza estremamente importante. Domus del Chivurgo Rimini, ritrovamento straordinario casuale dell'inizio degli anni 90 e poi si apre il problema appunto di avere un bene fantastico che però deve essere visitato, fruibile e protetto e quindi nasce questo progetto di copertura che in verità è una sorta di manufatto dentro a un giardino pubblico che in qualche modo si mimetizza ma permette di vedere 24 ore al giorno questo reperto straordinario. Si confronta con tanti tentativi anche che potevano essere buoni all'epoca e poi si sono rivelati col tempo meno intuitivi di quanto potessero dimostrare. non è mai facile coprire, proteggere, intervenire in un contesto del genere. Che cosa avete ipotizzato per sfuggire a quegli eventuali errori? Noi abbiamo cercato come sempre di essere di servizio e non di affermare un'immagine, un segno e quindi su questo reperto che è appunto la casa di un chirurgo, di un chirurgo militare romano. Abbiamo steso dei punti passerelle con dei pavimenti in vetro in modo da poter camminare e vedere i mosaici straordinari senza toccarli. Questi punti poi sono anche le travi che regolano una copertura che a sua volta è un giardino verde e quindi ha risarcito la città del giardino che avevamo tolto per fare lo scavo. Senti, che cosa ti diverte di più progettare? Che poi è la domanda cosa potresti fare che non è ancora affatto. In realtà, se penso al vostro lavoro, penso veramente ai compassi d'oro, penso alla segnaletica, penso alla grafica, penso alle scenografie televisive, penso all'architettura, ai building, ai concept. Che cosa ti diverti veramente a progettare? Ma forse è una risposta un po' tautologica, però mi diverto a progettare dei bei progetti, nel senso che secondo me a ogni scala, a ogni dimensione, per ogni occasione si può trovare appunto un tema di interesse. Se si riesce a far questo, se si riesce a dare una qualità, ma soprattutto se si riesce a dare un servizio, io penso che ci possa anche divertire. Ed è sostenibile? Beh, è sostenibile nei termini, insomma, perché se io rispondo a un'esigenza con dei mezzi adeguati, io penso che la risposta sia la più sostenibile possibile. Grazie. A te, grazie a te. A te, grazie a te. A te, grazie a te. A te, grazie a te.